Continua a tenere banco il problema rifiuti nell'agronocenino sarnese non solo, parte da Sarno e dal sindaco e presidente della provincia di Salerno Giuseppe Canfora una provocazione a chi sversa in modo abusivo rifiuti e a chi inquina falde acquifere e terreni. L'ambiente oramai sappiamo bene che l'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo, il cibo che mangiamo e quindi noi siamo fatti per il 99% di acqua per cui mantenere la città, il territorio non soltanto decoroso da un punto di vista d'immagine ma soprattutto mantenere l'aria che respiriamo e l'acqua che beviamo, l'acqua senza batteri e quindi sterile. Abbiamo deciso di prendere questa posizione contro chi sversa abusivamente o chi inquina le acque o chi inquina l'aria che respiriamo ed è un'azione non soltanto simbolica ma come dicevo anche un'azione energica, volitiva, nel senso che vogliamo difendere l'ambiente. Canfora inoltre baccaetta anche le amministrazioni comunali per quanto riguarda il ciclo integrato dei rifiuti e sugli impianti di compostaggio, sempre più invisili dai cittadini ma che potrebbe essere la panacea per la soluzione dei problemi rifiuti. Quando si parla di impianti di compostaggio siamo tutti quanti d'accordo sugli impianti di compostaggio, poi nel momento in cui si identificano le zone dove costruire gli impianti c'è qualcuno o più di uno che si ribellano all'azione costruttrice di un impianto di compostaggio. Come idea va bene, tutti quanti l'accettano però l'impianto di compostaggio lo facciamo sempre a casa di qualcun altro. Mi sono anche permesso di suggerire che questi impianti basta anche che come regia, come cabina di regia all'interno di queste cabine di regia ci siano associazioni che parlano di ambiente da una vita, che hanno costruito il loro modo di essere sull'ambiente e sulla protezione dell'ambiente. Sto pensando all'Egambiente, sto pensando al WWF, sto pensando a quelle associazioni che da sempre fanno una lotta contro i reati ambientali per prevenire l'inquinamento.